Veronica Panarello, mamma del piccolo Loris, avrebbe un'albi convincente riguardo all'orario dell'omicidio del figlio che sarebbe incompatibile con la presenza della donna in quei luoghi. Circa 6.000 migranti salvati nelle ultime 72 ore dai mezzi della guardia costiera, 9 i morti intanto recuperati mentre la polizia arresta a Pozzallo il presunto scafista dell'ultimo sbarco. Allarme rientrato sulla mancata realizzazione del raddoppio della Ragusa Catania. Il ministro del Rio precisa che l'opera non è stata cancellata e il suo iter potrà proseguire regolarmente. La Sicilia divisa in due a causa del crollo del viadotto sulla Palermo Catania induce alla preoccupazione della col diretti regionale che dice no alle possibili speculazioni sui prezzi dell'ortofutta. Il sindaco di Vittorio Nicosia rassicura tutti sulle questioni autoporta di equipe socio-psicopedagogiche firmate intanto il verbale di ripresa dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura. Benvenuto un appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Caso Loris dunque in apertura la mamma Veronica Panarello del bambino avrebbe un alibi convincente e riguarda l'orario dell'omicidio incompatibile dice la difesa con la presenza della donna in quel luogo. Se questa novità venisse acclarata durante il proseguo delle indagini la posizione della donna verrebbe naturalmente alleggerita. Il piccolo Loris Stival non sarebbe stato ucciso intorno alle 10 come sostenuto dall'accusa ma verso mezzogiorno. Questa la novità dell'ultima ora che si è confermata dalle indagini potrebbe rappresentare un'ennesima svolta nella brutta pagina di cronaca vissuta dalla comunità di Santa Croce Camerina. A quell'ora, secondo la difesa, la madre del bambino Veronica Panarello si trovava al corso di cucina al castello di Donna Fugata. Abbiamo questa certezza ha dichiarato l'avvocato Francesco Villardita che porteremo nelle sedi processuali perché vogliamo dimostrare l'impossibilità sotto il profilo materiale della commissione dell'omicidio da parte della signora Panarello. E anche sulle fascette usate per commettere il delitto la difesa non è convinta per nulla tanto da aver già rappresentato questo dubbio al tribunale del riesame facendo presente che mancano le zigrinature su quel solco che è stato rilevato dal medico legale della procura e anche su questo punto è annunciata battaglia al prossimo processo. Intanto, a causa dell'assenza di un legale, è stato rinviato a giovedì dopo domani l'incidente probatorio che doveva avere luogo ieri in quest'ora a Ragusa per trasferire le immagini registrate a Santa Croce Camerina dai sistemi di videosorveglianza la mattina di quel tragico 29 novembre dell'anno scorso. Abbiamo argomento. Non si fermano gli sbarchi di migranti in Sicilia che ormai vengono soccorse fin sotto le coste libiche. Nonostante ciò, il numero dei morti resta sempre alto e domenica intanto un altro gommone è arrivato a Pozzallo. Secondo i testimoni, un giovane sarebbe morto poco dopo la partenza e per questo gettato in mare. Intanto gli inquirenti hanno stamane arrestato il presunto scafista. Abubakarma Bangura. Questo è il nome del 19enne nato in Guinea che è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria perché è ritenuto responsabile di aver guidato il gommone soccorso in mare domenica pomeriggio. L'uomo dovrà rispondere anche della morte di un giovane, presumibilmente nigeriano, deggetuto probabilmente per le esalazioni di idrocarburi e poi gettato in mare prima dei soccorsi. Sul gommone 110 persone, tutte provenienti dal centro Africa, attualmente ospitate al CPSA di Pozzallo in attesa del trasferimento. A soccorrere i migranti la guardia costiera maltese che li ha poi portati a Pozzallo. Alle procedure di sbarco hanno partecipato 40 agenti della Polizia di Stato ed altri operatori delle forze dell'ordine, la protezione civile, la Croce Rossa italiana e i medici dell'ASP. Ad indagare gli uomini della Polizia di Stato, squadra mobile e questura di Ragusa, con la partecipazione di un'aliquota di carabinieri ed una delle sezioni operative navali della Guardia di Finanza che hanno individuato in poche ore lo scafista della Guinea. Il giovane non ha voluto collaborare con la Polizia e si è dichiarato innocente. I testimoni hanno però riferito che l'uomo faceva parte dell'organizzazione, non dimorava infatti nei capannoni con gli altri passeggeri ed è giunta in spiaggia quando già erano tutti sul gommone. Dai racconti è emerso che un migrante, probabilmente nigeriano, è deceduto nel corso della traversata, forse per aver inalato gli idrocarburi del motore. Poco dopo è stato gettato in acqua. Sempre secondo il racconto dei migranti, gli organizzatori hanno incassato circa 60 mila dollari. Dall'inizio dell'anno sono 14 gli scafisti fermati, che si sommano ai circa 200 del 2014. Intanto facendo i numeri, come nel caso appunto del servizio appena ascoltato, sarebbero circa 6 mila i migranti s'accorsi e salvati nelle ultime 72 ore dai mezzi marini. Nove morti recuperati, come si sa, mentre oggi ci sono nuovi avvistamenti di gommoni diretti verso le coste siciliane. Il nuovo esodo dei disperati in fuga dalla Libia è costato nove morti dopo che il barcone che li trasportava, assieme ad altri compagni di sventura, si era rovesciato a largo delle coste nordafricane. Un barcone che si è ribaltato, forse a causa dell'eccessivo carico umano, mentre in 144 sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera. All'operazione di soccorso ha preso parte una task force composta anche da quattro navi e da un aereo della Guardia Costiera col bilancio complessivo di circa 6 mila clandestini salvati in poco meno di 72 ore e dall'inizio dell'anno, secondo i dati forniti dall'Organizzazione Internazionale per le immigrazioni. Sono circa 15 mila gli immigrati soccorsi e messi in salvo. Proprio l'Organizzazione Internazionale elogia in queste ore il lavoro e l'opera svolti dalla Guardia Costiera italiana col supporto della Marina Militare e di molte navi commerciali. I migranti soccorsi negli ultimi giorni sono in maggioranza subsahariani, eritrei, somali e etiopi e partono appunto dalle coste ribiche. Per gli osservatori internazionali resta chiaro che i flussi migratori sono destinati a continuare, specie adesso che sembra arrivato il bel tempo, per cui occorre fare di più a livello di Intelligent per provare a identificare i contrabbandieri e gli scafisti senza scrupoli, cercando quindi di reprimere questa rete criminale. Adesso l'è incompiuta l'infrastruttore in Sicilia, rientra intanto l'allarme sulla mancata realizzazione raddoppio della Ragusa Catani. In questa ora infatti il Ministro per le Infrastrutture Graziano del Rio ha precisato che l'opera non è stata cancellata e il suo iter potrà proseguire regolarmente attraverso il project financing. Il progetto di raddoppio della Ragusa Catania non è stato cancellato ed il suo iter potrà proseguire regolarmente attraverso il project financing, potendo quindi continuare a contare sui finanziamenti già previsti. Il mancato inserimento nel DEF insomma non equivale alla cancellazione dell'opera. La rassicurazione è stata data dallo stesso Ministro Graziano del Rio in una intervista a Lanza e rilanciata dal deputato regionale Nello Di Pasquale e dalla senatrice del PD Venera Padua. Da Roma arrivano notizie soddisfacenti, ha dichiarato Di Pasquale, ed il sottosegretario Faraone mi ha confermato che è esclusa la possibilità di una cancellazione dell'opera. Il Ministro, aggiunge la senatrice Padua, ha spiegato come la notizia della cancellazione della Ragusa Catania dagli interventi strategici è priva di fondamento, poiché il DEF non è un atto che finanzia opere ma un mero strumento ricognitivo delle opere nazionali di interesse europeo. Tra l'altro, proprio in queste ultime ore, dichiara ancora, ho avuto modo di interloquire con il portavoce del Vice Ministro Nencini e con la segreteria particolare del Ministro delle Infrastrutture a cui avevo sottoposto tutte le perplessità emerse nel nostro territorio sulla delicata questione. Questo non significa, aggiunge la Padua, che l'attenzione non debba rimanere alta per monitorare costantemente lo stato del leader di questa importante infrastruttura e per questo motivo, anche a nome del tavolo appositamente istituito nell'area eblea, mi sono fatta portavoce di una richiesta di incontro con il Ministro per sgombrare definitivamente il campo da dubbi e perplessità di ogni genere. Atteniamo la convocazione. Restiamo in tema. Se la Ragusa Catania non è a rischio, la si reinserisca nel piano delle infrastrutture strategiche del DEF, lo dicare il senatore Giovanni Mauro, commissario e portavoce di Forza Italia in provincia. Non si comprende, dice Mauro, per quale motivo l'opera è stata stracciata dal piano. Dava fastidio oppure occupava un rigo di troppo, facendo Mauro in questo caso dell'ironia. Come territorio abbiamo fatto bene a sollevare l'attenzione su questo problema perché la paura reale è, conclude Mauro, che si tratta di una scusa per fermare la realizzazione di un'infrastruttura che per la Sicilia è di fondamentale importanza. E sempre in riferimento a questa paventata cancellazione della 514, interviene presente al Consiglio Comunale di Comiso, Gigi Bellassai, una notizia, dichiara Bellassai, destituita di fondamento. Sulla paventata cancellazione dagli interventi strategici dell'autostrada Ragusa-Catania, dice la sua anche il presente al Consiglio Comunale di Comiso e coordinatore regionale Econo in Sicilia, Gigi Bellassai, dopo aver sentito il sottosegretario alla presenza al Consiglio, Davide Faraone. Il sottosegretario mi ha evidenziato che la notizia è stata dice Bellassai dell'eliminazione dell'assetto strategico della Ragusa-Catania e destituita di ogni fondamento in quanto il documento di Economia e Finanza 2015, il famoso DEF, non è uno strumento di finanziamento delle opere pubbliche, ma nel caso di specie un atto ricognitivo delle opere nazionali di interesse europeo. Il progetto quindi del potenziamento al raddoppio della Ragusa-Catania nel tratto Ragusa-Lentina è già in progettazione definitiva ed è approdata alla fase di valutazione economica con la procedura del Project Financing. E questa è una notizia molto positiva, sottolinea Bellassai, in quanto allenta le preoccupazioni circa gli impegni da parte del governo Renzi sul potenziamento infrastrutturale dell'isola, che vive come è noto un momento drammatico a causa del crollo del viadotto sulla Catania-Palermo. Bellassai infine si attende adesso un'accelerazione dell'iter procedurale che già parecchi intoppi ha incontrato. La Sicilia è dunque divisa in due a causa, come sapete, del crollo di un viadotto sulla Palermo-Catania induce in quest'ora la preoccupazione della Coldiretti regionale che dice no a possibili speculazioni sui prezzi dell'ortofrutta, inoltre al comparto agricolo sul piede di guerra. Ci sono anche artigiani, albergatori e ristoratori. La Coldiretti regionale, col suo presidente Alessandro Chiarelli, dice no senza mezzi termini alle speculazioni sui prezzi di frutta e verdura che potrebbero insorgere a causa della vicenda dell'autostrada A19 interrotta come noto per il cedimento di un viadotto e per affronteggere questa minaccia, ossia l'aumento dei costi di produzione, la Coldiretti chiede l'intervento del governo regionale predisponendo, dice, provvedimenti straordinari. Servono risposte immediate senza perdita di tempo e in una regione dove lo scambio commerciale avviene sul gommato per i vertici di Coldiretti occorre ripensare ad una politica di trasporti che privilegi le autostrade del mare anche nella stessa isola. Di sicuro gli agricoltori che hanno già subito parecchio quest'anno per le avverse condizioni climatiche non possono subire quest'ulteriore batosta economica per cui l'organizzazione agricola di categorie chiede intanto la proclamazione quanto prima dello stato di emergenza. Ma poi non ci sono solo gli agricoltori che chiedono aiuto. Sulla stessa barca anche gli artigiani secondo i quali con quest'andazzo è molto difficile essere competitivi sul mercato mentre un altro grido di allarme si leva dal settore alberghiero e della ristorazione. Quanto accaduto, dicono in coro, rappresenta un gravissimo danno non solo per l'immagine dell'isola ma anche per le attività turistiche con un disastro ecologico che rischia di penalizzare la Sicilia per tutto il 2015 e forse anche oltre. Importante novità dunque per l'autoporto di Vittoria. Il rimattino infatti è stato firmato il verbale di ripresa dei lavori di realizzazione dell'opera. L'ho annunciato il sindaco Nicosia il quale interviene anche sulla questione relativa alla sospensione dell'equipe socio-pedagogiche che in città ha sollevato diverse polemiche. Nuovo e importante passo in avanti per l'autoporto di Vittoria. Ieri mattina infatti alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici Filippo Cavallo, del rappresentante della ditta giudicataria Giuseppe Ngallina, del direttore dei lavori Ignazio Lutri e del RUP Angelo Piccione è stato firmato il verbale di ripresa dei lavori di realizzazione dell'opera. Come anticipato nella conferenza con la CNA, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nicosia, non si è perso tempo con le procedure e anche grazie all'impresa in 120 giorni si potà completare un'opera importante che è solo l'ennesima in questo scorcio di amministrazione. Ora, aggiunge, bisogna pensare all'ipotesi gestionale e alla richiesta dei fondi per il completamento. Confido che i lavori si completino entro i quattro mesi previsti, ha aggiunto Cavallo. Seguirò con attenzione l'andamento dei lavori e insieme al sindaco sono già proiettato verso i prossimi passi da compiere. Intanto, sempre il primo cittadino Giuseppe Nicosia replica le dichiarazioni dei consiglieri comunali di Selle, Giuseppe Mustile e Mariella Garofalo, a proposito della sospensione del servizio delle equip psicopedagogiche. Rispondo io al posto dell'assessore Bonetta, che è più inclina al lavoro che alle polemiche, dichiara il primo cittadino. Era sicuro la cittadinanza che, nonostante le difficoltà finanziarie, ho già concordato con Bonetta e con il ragioniere capo del comune, Giuseppe Sulcenti, che il servizio sarà riavviato a breve. L'assessore sta lavorando bene, aggiunge, da parte sua non vi è stata e non vi è alcuna disattenzione. Lo dimostra tra l'altro il fatto che in due settimane è affrontato e risolto un problema che non era certo addebitabile a lui. Intanto il movimento Patto per Vittoria, per bocca del suo coordinatore Arcangelo Mazza, si chiede se vedremo i deputati dei vari partiti presta a fare passerelle, arrivare in auto blu, abbracciarsi e baciarsi con questi amministratori fallimentari. Basta presa in giro, rimarca Mazza, perché Patto per Vittoria, ancora una volta, stringe i tempi sulla grande coalizione civica e in questo senso lancia un appello a tutte le espressioni cittadini, culturali, sociali e economiche affinché si sostenga il progetto di recupero della dignità vittoriese con la forza democratica della rappresentanza cittadina libera e capace, conclude Mazza, di cambiare un sistema radicato volto a garantire una piccola minoranza di gruppi familiari e comparaggi vari. I temi dell'ambiente, ancora un'iniziativa del WWF in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Sciascia di Scoglitti, sabato scorso infatti, gli alunni della seconda B hanno potuto assistere ad una lezione tenuta da Tonino Sansone della locale WWF. Sabato ecologico, quello scorso per gli alunni della seconda B dell'Istituto Comprensivo Sciascia di Scoglitti che in riva al mare hanno avuto il piacere di assistere ad una lezione straordinaria impartita da Tonino Sansone del locale WWF. Si è trattato di un'iniziativa didattica frontale a tutti gli effetti, volta ad impartire nozioni di biologia marina, di salvaguardia dell'ecosistema del mar Mediterraneo e per conoscere le fonti principali di inquinamento, come ad esempio le trivellazioni offshore e lo sfruttamento esasperato della fauna marina, nonché l'accumulo di plastiche e rifiuti vari. Nel corso della mattinata i ragazzi hanno potuto recepire come l'adozione di stili di vita più ecosostenibili richieda pochi ma fondamentali accorgimenti. Ringrazio ancora una volta la preside della Scuola Sciascia, Giuseppina Spataro, ha detto Sansone, che come sempre si è dimostrata sensibile alle tematiche ambientali, accogliendo con entusiasmo le nostre proposte di attività didattiche extracurriculari. Negli anni ormai il WWF e l'Istituto Sciascia hanno intessuto una stretta collaborazione, tesa alla sensibilizzazione dei più giovani al rispetto dell'ambiente. A rischio di ripetermi, ha concluso Sansone, ritengo estremamente necessaria l'educazione ambientale perché l'ambiente è vita e riguarda tutti quanti indistintamente. Il sociologo Umberto Galimberti conclude domani a Ragusa, mercoledì, il terzo master formativo Genitori e Figli, Istituzioni per l'Uso. L'incontro con Galimberti, come sempre, aperto da Rosario Alescio, presidente di Logos e coordinato da Claudia Schembari, sostituisce l'appuntamento inizialmente in programma per oggi con la dottoressa Silvia Veggenti-Finzi. La festa di Santa Maria Santissima a Chiara Montegulfi, domani mercoledì, giornata dedicata alla donna dopo la messa. Alle 11, celebrazione egoristica preseduta da Don Giovanni in nobile con funzione animata da carmelitane e francescani. Alle 19, celebrazione poi preseduta dal predicatore padre Carmelo Latteri. Ci sarà la benedizione di tutti i bambini nati nell'anno. Alle 20 e 30, degustazione e poi di docce offerti sempre dalle donne. Giovedì, nella giornata invece dedicata ai pastori, dopo la celebrazione eucaristica, la Santa Messa delle 11 sarà preseduta da Don Giovanni Meli e animata dal gruppo di preghiera San Pio da Pietralcina. In serata, celebrazione eucaristica preseduta dal predicatore con i canti animati dal coro della parrocchia San Nicola. Dopo la celebrazione, il simulacro di San Giuseppe sarà portato in chiesa madre. E siamo allo sport, tempo di semifinale per la passalacqua. a spedizione. Domani infatti arriva al Palaminardi la Saces Napoli, che ha eliminato il San Martino di Lupari dalla corsa play-off. Scudetti in campionato, un successo per entrambe. All'andata vinsano il ragusano e poi al ritorno al Palaminardi la rivincita dei partenopei. Nuovo appuntamento play-off con gara 1 domani per la passalacqua ragusa, che arriva in semifinale dopo aver liquidato Lucca. Di fronte si troverà il Saces Napoli, già battuto in campionato fuori casa. Poi le atlete campane si sono prese la rivincita al Palaminardi. Gara quindi quanto mai apertissima con le due squadre che sostanzialmente si equivalgono. Domani comunque si riparte allo 0-0 e sarà un'altra storia. Il team Ibleo si allena in tanti ranghi compatte con Valeria e Mauriello, che hanno ripresa a lavorare in gruppo. Ed è opinione diffusa nella passalacqua che ci si troverà davanti un avversario abbastanza ostico, difficile da affrontare in quanto fa dell'aggressività il suo connotato migliore per cui serve disputare una grande partita. Umore e morale in ogni caso sono alti e la squadra affermato Molino è super concentrata per non fare non bene ma benissimo. Da parte del pubblico inoltre il tecnico ragusano si aspetta domani lo stesso entusiasmo che sta vivendo la sua squadra e si dice certo che sosterranno come sempre la squadra come sempre hanno fatto in questi ultimi tre anni. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della Lega Basket Femminile mentre gara 2 in programma sabato prossimo alla 18 a Napoli sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Eventuale gara 3 ancora al Palaminardi martedì 21 aprile. Poi c'è la vittoria Calcetto che chiude in bellezza il campionato travolgendo con una dozzina di reti il Cus Cosenza, fanalino del girone. Bilancio dunque estremamente positivo per il team Ipparino che si piazza al settimo posto in classifica. Settimo posto finale, 39 punti, 12 partite vinte su 26. Claudio a ricopero a quota 30 reti e quinta miglior attaccante del campionato. Se i numeri hanno una loro valenza si può senza dubbio affermare che per la vittoria Calcetto va in archivio una stagione positiva scattata benissimo, poi un cala a metà torneo e quindi la ripresa nella fase conclusiva. Domenica scorsa chiuso in casa col punto esclamativo 12 a 1 inflitta al malcapitato Cus Cosenza e con la solita recupero match winner e autore di un'acqua terna. Al di là comunque degli alte e bassi ha dichiarato nel dopoguare il tecnico Davide Nobile. È stato un buon campionato che abbiamo incluse a soli tre punti dal quinto posto che valevano i playoff e con qualche distrazione in meno ci saremmo potuti arrivare. Soddisfatto nel complesso anche il presidente Alfonso Leta che ha parlato di una stagione da dividere in due parti. Da un lato è stato un anno abbastanza positivo per il posto ottenuto in classifica al di là in ogni aspettativa. Dall'alto invece c'è grande rammarico per i punti persi nei due mesi neri. Si è spiegata insomma la possibilità di agguantare il playoff per soli tre punti e questo va considerato, conclude Leta, una sprone in vista del prossimo anno. Con l'arco con lo scorso fine settimana, sabato e domenica, con due gare intense che si sono svolte a Gela. In campo anche gli arcieri mediterranei, guidati da Pippo Carruba. In vetrina intanto due giovanissimi atleti vittoriesi, Marco Cappello che ha ottenuto il massimo dei punteggi vincendo il titolo di campione regionale e poi Marta Belmonte che è arrivata al secondo posto nella sua prima gara di categoria. Domenica che ha visto anche la gara interregionale con gli atleti appunto vittoriesi. Sul podio Chiara Melfi, Michele Ghiangarossa e Salvatore Russello. Dietro Laura Ricciardi e Marco Cappello. Una buona prestazione ha fatto anche Matteo Piccione. E poi successo anche di squadra e ragazzi maschili con Michele Ghiangarossa, Matteo Piccione e Marco Cappello. Soddisfatto naturalmente lo stesso tecnico Pippo Carruba e oggi la ripresa degli allenamenti a vittoria. Eccoci al riepilogo dei fatti nel primo piano. Veronica Panarello, mamma del piccolo Loris, avrebbe un alibi convincente riguardo all'orario dell'omicidio del figlio che sarebbe incompatibile con la presenza della donna in quei luoghi. Se questa novità prospettata dalla difesa venisse confermata, la posizione della donna si verrebbe ad alleggerire. Intanto l'incidente probatorio a causa dell'assenza di un legale è stato rinviato a giovedì. Circa 6.000 migranti salvati nelle ultime 72 euro dai mezzi della guardia costiera. 9 i morti intanto recuperati, mentre la polizia arresta a Pozzallo il presunto scafista dell'ultimo sbarco. Per gli osservatori resta chiaro che i flussi migratori con l'arrivo della bella stagione sono destinati a continuare, per cui occorre fare di più a livello di intelligence per identificare i contrabbandieri libici e gli scafisti senza scrupoli. L'allarme è rientrato sulla mancata realizzazione del raddoppio della Ragusa Catania. Il ministro del Rio precisa che l'opera non è stata cancellata e il suo iter potrà proseguire regolarmente. E questo attraverso il Project Finansi, potendo contare sui finanziamenti già previsti. Soddisfatti i parlamentari Ibleven e Rapadio Enello di Pasquale dopo le rassicurazioni dal sottosegretario alla presente del Consiglio, Davide Faraone. La Sicilia divisa in due a causa del crollo del viadotto sulla Palermo-Catania induce alla preoccupazione della col diretti regionale che dice no alle possibili speculazioni sui prezzi dell'ortofrutta. E oltre al comparto agricolo, sul piede di guerra anche artigiano albergatore e ristoratori. Quanto accaduto, dicono in coro, rappresenta un gravissimo danno non solo per l'immagine dell'isola ma anche per le attività turistiche. Il sindaco di Vittorio Nicosia rassicura tutti sulle questioni autoporte di equip socio-psico-pedagogiche, firmate intanto il verbale di ripresa dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura. Ora, dice Nicosia, bisogna pensare all'ipotesi di gestionare e alla richiesta di fondi per complatarla. Per quanto riguarda invece l'equipe scolastica, Nicosia ha rassicurato che il servizio sarà riavato a breve e che quindi non c'è stata alcuna disattenzione dell'assessore. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.